Al Palazzo di Giustizia di Napoli si è svolta oggi la conferenza stampa di anticipazione dei principali temi che saranno al centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sabato a Napoli. Naturalmente si è parlato del fenomeno baby gang, su questo si è soffermato il capo della procura generale Luigi Riello. Sicuramente ha molto spazio, non dobbiamo lanciare allarmismi perché la paura non è mai buona consigliera, ma non dobbiamo nemmeno sottovalutare il fenomeno. Io dico che quando si afferma che soprattutto con la bonifica sociale che occorre affrontare questo fenomeno si dice una cosa sacrosanta perché questi ragazzi provengono quasi sempre da famiglie disastrate, da zone degradate e su questo bisogna investire, sul recupero. Bisogna dare anche una risposta da parte delle istituzioni sul piano punitivo perché vediamo che vengono consumati molti reati predatori da parte di minorenni a volto scoperto. Quando vengono presi spesso dicono ai poliziotti non ci potete far niente, quindi restringere in senso di maggiore rigore i casi di arresto in flagranza di minorenni credo che non sia un fatto negativo. Sono nocciolati anche alcuni dati importanti, dati che riguardano naturalmente il numero dei reati, il numero delle rapine, delle aggressioni ma anche degli omicidi. Tutto in diminuzione tranne i reati collegati al traffico, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un altro tema molto importante sottolineato nella conferenza stampa dal procuratore generale Riello è quello delle demolizioni e dell'abusivismo edilizio perché a quanto pare non tutti i comuni della provincia di Napoli collaborano nell'affronteggiare il fenomeno dell'abusivismo edilizio e quindi delle demolizioni. Molte le inchieste della procura di Napoli su infiltrazioni della camorra in pubbliche amministrazioni ma è sempre dura la lotta per combattere la criminalità sul territorio. Quanto conta la collaborazione dei comuni e soprattutto c'è nella maggior parte dei casi o no, o latita questa collaborazione? Purtroppo non c'è una grande collaborazione, dicevo prima che per esempio a proposito dell'abusivismo edilizio troviamo un'inerzia enorme da parte dei comuni. Per quello che riguarda le infiltrazioni, pensiamo che sono parecchi i comuni che sono stati sciolti per infiltrazioni camorristiche che continua ad esserci un'infiltrazione della camorra nelle pubbliche amministrazioni, nei comuni noi abbiamo fatto molto però dobbiamo fare ancora di più consapevoli che la camorra non è una criminalità disarticolata perché spesso si diceva non è come la mafia che è verticistica, che è particolarmente organizzata è una criminalità che si infiltra in un circuito, in una rete economica che purtroppo dà poi i suoi frutti perniciosi per quello che riguarda la trasparenza della politica stessa della pubblica amministrazione. Si è parlato inoltre, su questo si è soffermato De Carolis in particolare, dei processi in pendenza quindi della pendenza dei processi e soprattutto di quelle sentenze ancora numerosissime si parla di circa 12.000 sentenze emesse ma che non sono state eseguite per tutta una serie di motivi di organizzazione su questo fronte resta ancora quest'anno il problema della carenza di personale. Ecco anche lì abbiamo cercato di portare a soluzione questo problema che era un problema che era sommerso che poi è emerso appunto io stesso l'ho sollevato l'anno scorso abbiamo creato una task force con personale amministrativo che si è dedicato a lavorare anche il sabato ha fatto straordinaria cosa per cercare di eliminare il più possibile e siamo sulla buona strada perché abbiamo anche creato un ufficio esecuzione che è dedicato proprio esclusivamente all'esecuzione, a quegli adempimenti necessari per eseguire le sentenze già definitive che erano un numero enorme quindi diciamo tutto sommato ci siamo resali. Ci sono ancora situazioni critiche nel distretto che sono essenzialmente quella di Napoli Nord e della Corte d'Appello di Napoli per una questione di personale amministrativo anche se dobbiamo dare atto che c'è stata un'inversione di tendenza da parte del Ministero perché finalmente abbiamo avuto un concorso per personale amministrativo giudiziario che non si aveva da vent'anni quindi diciamo di questo non possiamo che essere contenti restano però degli squilibri anche all'interno del territorio tra le piante organiche del personale amministrativo e quelle dei magistrati che rendono difficile per alcuni uffici in particolare la Corte d'Appello di Napoli Nord portare avanti diciamo perché chiaramente il lavoro dei giudici non è sufficiente se non ci sono poi i dipendenti amministrativi che lo sostengono per esempio non si può fare udienza penale senza un cancelliere quindi uno dei problemi di Napoli Nord è che non riusciva a fare tutte le udienze previste perché non aveva abbastanza personale amministrativo e cancellieri che potessero andare in udienza quindi questa rimane una criticità e quindi sono aumentate le pendenze in questi uffici È tutto dalla Tribunale di Napoli